scusate ragazzi ma è davvero un momento molto 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 straziante per me per il semplice fatto che cioè vabbè ve lo dico insomma da poco vado in vacanza il 14 di agosto insomma domani ferragosto vi lascerò per qualche giorno mi dispiace tantissimo per le per le mie video recensioni però insomma dovete anche capire che prima o poi sarebbe toccato anche a me prendermi qualche giorno di ferie dai cosa dire vi penserò tantissimo cercherò per quanto mi sarà possibile di starvi vicino con tutto il cuore ovviamente vado in vacanza in Sardegna sapete come visto che ci abito cosa dire poi i posti dove andrò mi dispiace anche abbandonarvi mi ero affezionato però adesso è il momento che vado in vacanza quindi non so se potrò più collegarmi a internet cioè qui in Sardegna dove vado ci sono luoghi sperduti inaccessibili dove internet non arriva insomma quei dieci minuti di macchina che mi separano dalla destinazione cioè veramente mi sembreranno mi sembreranno un'eternità cioè davvero mi dispiace ragazzi ma sapete com'è questa soprattutto per chi abita in Sardegna questa stagione è una condanna cioè devo lasciarvi per per andare per andare in spiaggia insomma abbiamo il mare più bello del mondo spiagge bianchissime un mare pulitissimo cioè chi se ne sarebbe chi resterebbe tappato chiuso in casa cioè questa è è la condanna di tutti quelli che vivono che vivono in Sardegna vabbè dai che ci volete fare ragazzi vi mancherete cercherò di fare il possibile con i miei video tornerò al più presto nel frattempo dai veramente ragazzi mi sto scappando una griglia di commozione dai cosa dirvi vi lascio e ciao a tutti alla prossima ciao a tutti